E bentornati e benvenuti su GoItalia Siamo tornati su Lies of P Seconda puntata, secondo episodio Un episodio un po' particolare Sbloccato un po' tutto Poi vedrete, insomma non è un classico gameplay Però diciamo, comunque, secondo me Ci potremmo divertire Quindi, di maniera qui su GoItalia Andiamo, andiamo, andiamo Ok, io credo di qua siamo, andiamo bene, dai Eccolo, vedi? Eccolo, vedi? Allora, sto coso quando si può usare Non qua, sicuramente Allora, dobbiamo evitare sto coso Credo Non lo so Credo, eh Disgustiamo lo Stargazer, vai Ok, Stargazer è attivato Credo, stronzone Di qua si va Si capisce Credo di no No, tutto chiuso È così, scenico, credo Ok, manco qua si va Sta arrivando lo stronzone Sento i passi Oh, dove stai? Ah, sta giù, sta giù, sta giù Sta giù che sta Andiamo, andiamo a sopprimere, poveretto Qua Una botta Allie Capito, ok Allora, attiva il mele da dietro Mele, insomma, quello che sia Non con lo spadone Probabilmente Dobbiamo cambiare Arma No, ci ha visto Ci ha visto Elysian Boulevard Un'altra Era una situazione Una zona Quasi Che vadate Che pareva Occhio Ghani Vieni qua Serozione Niente Che abbiamo qui? Ok Cultura lata? Spero che Insomma No però Insomma Scorretto Non lo so Pi' elegante Però eh Non lo so Pi' elegante Cambiamo Vabbè Lasciamo Dai non fa niente Ok Saliamo 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 A stronzo Eh vabbè Ok Già c'era Però Non mi ricordo Più niente Come sempre Ok Di là Di là Di là Non mi facciamo un cazzo Ovviamente Perché non para un cazzo Ok Ok Grazie Alla P Eh un po' P E un po' Scazzi No vabbè Mi trovo Più lo spadone Non so perché Ah Ma che sei stronzo Oh E' un cizzo cos'è Alle Vai 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 Ah Ma vedi che C'è prova Il gioco Fammi la casotto Però come si prende Boh Vede pazienza No Si può prendere Si può prendere Prendiamo a salire Vediamo che succede Va casino Ah Se la sobra Come cazzo Come cazzo Pesso de merda Giustamente Non è previsto Beh Posso fare niente Praticamente Oh levi Ah Lui si Lui si Lui può Al capo Ah ci manca Ci manca un po' di musica Questo monotavo Tutto troppo rigoroso Secondo me Un po' triste Un po' triste Senza musica Ah ci ho fatto caso Ce la metto io Un po' di musica Vai Un po' di musica Un po' Troppo alta Però Ah Attenzione Ecco qua Abbiamo fatto fuori Lo stronzone Lettera Dettagli Dettagli Subito Subito La mia Louise Charlotte Il mio tesoro Non riesco a sentire nulla Vabbè Aia Super stronzone Super stronzone Eccolo qua Ok andiamo a cambiare Prendiamo spadone Non facciamo niente Vero Un pochino Un pochino Ah ce la fa No Non ci credo Pensavo che cadeva La cosa di legno Parca puttana Un pochino Tra l'altro Mezzo De merda Via 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 non l'ho fatto in maniera molto smart purtroppo un po' Grazie a tutti. Ah, ci abbiamo... Ah, ok. Quindi dobbiamo caricare... Ok. Ma si carica un cazzo? Notare. Vediamo qua che c'è. Ok, l'amuleto della vita ci abbiamo. Dove sta? Vai. Ok. 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 Il venditore, il venditore. C'è un po' di roba. Ok. 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 Questa cosa? Tessa del bastone. Ok, questa è una nuova arma. Comincerò un po' tutto se posso. Poi la proverò. Ah, qua è bloccato, mi ricordo. Infatti. Lo seguiamo, lo seguiamo. Dove? Anzi, sa. No, da qua è che parte? Ok, di qua. Ok. Ok. Pio di... No Eh vabbè Con la telecamera Che se è stronzo Ehi lento porca miseria Un po' lento, un po' lento, vabbè Una sicosa che cazzo servono così? Per romperci le balle immagino Eh lo sapevo Un po' lento Si sembrano Un po' lento 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 Non finisce più la guarda Ok Ah no Non l'ho visto proprio Porca puttana Ah non c'è più energia Il filo del burattino Quindi è energia Interessante sta cosa Vabbè Allora Grazie a tutti Grazie a tutti Oh 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 Via Apri apri Vediamo un po' che c'è qua dentro Classico Ma forse non vediamo Andiamo dopo Saliamo sopra E porc Questa volta ti posso fa fuori bastardo Se riesco A salire Guida ai luoghi L'attrazione di questo mese Ponte su via degli alchimisti Via rosa Isabella Vabbè Qua non si può salire Mi sembra di no A parte che sarebbe inutile Perché non vedo A che ci possa servire Vabbè Siamo saliti solo per uccidere quello stronzone Mi sembra di capire Prendiamo sto coso Occhio Occhio Mi ha fatto il giro Mi sa di si Ok No Questo è sempre bloccato Questo è sempre bloccato Stato che mi capito Dove cazzo Devo andare Wow Ok Stata giusta Stata giusta Stata giusta Dove mi porta Vediamo un po' Dove mi porta Staviamola Quindi Ok Tanto in tanto Appariamo la farfalla Dimensionale In alcune parti di Krat L'ampada di Monad Può individuare la farfalla Illuminare in rosso La sua posizione Con le personaggi più vicine Alla farfalla nascosta Questa apparirà Dopo un certo periodo La farfalla sparirà In un'altra dimensione Ah Dovevo ucciderla E vabbè Che cazzo ne sapevo Ma va a cagare Vabbè Scusa eh Se non ci Pensavo Ho detto Vabbè Sarà La mia La mia guida Invece no Dovevo ucciderla Allora tipo A Assassin's Creed Praticamente Vabbè Nulla di nuovo Da questo punto di vista Che è sta roba Esami Attenzione Zona in quarantena Per il morbo Poterificante Blah 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 Ok vabbè Qua mi sembra Che non sono mai sceso O no Boh Non si sa Lo so Magari sto tornando indietro Probabilmente Non lo so Boh Oppure posso salire di qua Nella stessa cosa Vediamo un attimo C'è qualcuno? Deve essere la prima volta Che è in finanza Di quarantena Petrafication Ma guarda Non lo so Se sono un buon samaritano Non lo so Ah devi chiedermi Un favore Vabbè Senza cuore Senza cuore Cattivi Ah ok Chissà che è sta cosa Vabbè La troverò Abbiamo la missione secondaria Yeah Please hurry Our scales Spreading across my eyes Before you lose my sight Please She said the baby was at city hall Should we check it out? I hope everybody's safe Ok Ok Quindi questa parte qua Era soltanto per Questa missione Ah C'è uno stronzone Mega galattico Dov'è A sronzo Ah già Giusto Non lo so Grazie. Oh, abbiamo persecuto la sua arma? Bene. Vediamo se ci serve qualcosa. Vediamo se possiamo fare qualcosa da qua. No, non mi sembra che... no, no, no. Non ci siamo. No, non ci siamo. Ah, ma qua non possiamo cambiare, vabbè. Ok, quindi, allora, andando a confrontare con questo, è meno potente, cioè meno durevole. Insomma, è negativa la situazione con questo qua. Andando invece a... andando a confrontarlo con la sciabola, diciamo, con la normale... Un attimo, cerchiamo di capire... Non lo so, mi dice un cazzo, sinceramente. Quanto nulla, al momento. Ce l'abbiamo, andiamo ad equipaggiarli. Ah, ok, ho sopra o sotto, vabbè. Ci sta, ci sta. Continuiamo. Continuiamo. Scalabocchio, scarabocchio, boh. Messaggi in codice. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. ah finalmente possiamo sbloccarlo vai si continua si continua ad andare avanti attenzione porca pensavo peggio pensavo peggio ok mio spadone è più bello mio spadone è più tosto chiuso aperto yes qua c'è un ascensore è già attivo ok andiamo prima qua sopra poi andiamo a vedere ah ok questa è la scorciatoia ok a posto arrivederci abbiamo capito vi proseguiamo per la porta e qua c'è la geppetto c'è la geppetto sul ponte degli alchimisti mi ricordo come out dimmi la verità sono qui per il vecchio sparisce get lost posso ucciderlo questo stronzo oh la miseria occhio mastardo sono qui per il vecchio Are you a clown or a nightmare? Stop showing up always! I'll kill you both, then I'll strike you up on the bridge. Eh, molto meglio con la spada piccola. Now I feel bad for my comrade. Ringo, son. Finally, we meet, son. It's a dream come true, seeing you like this. I understand why some people despise me. I invented the puppets after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. Che mi dai, che mi dai? Eh, bene. Mi ho dato un po' di roba. All about your experiences. But now isn't a good time. Use the stalker's key to open the bridge door. Then get rid of the frenzy puppets that have seized City Hall. We'll catch up at Hotel Kraut when you're done. Ok. Allora, innanzitutto recuperiamo un po' di roba. Bravo. Vabbè, ce la teniamo lì. Poi ci servirà qualche boss. Ci abbiamo qualche cosa da io, questo. Vabbè. Questo è seroso di prima. C'è un po' di roba. Vabbè. Vabbè. Quà? No. Bloccato. Da l'altra parte. ok 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 abbiamo due parti quindi questo il municipio sarà questo qua dove si va vediamo un attimo chi è questo? si sa ok sblocchiamo ecco una cosa utile che si avve da solo bene saliamo 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 uccellaccio uccellaccio sarà il super boss di cui sta parlando non se sa vabbè la cosa interessante è che anche quando è curativo in custodio svolge bene i suoi ruoli di mascotte è molto richiesto dai bambini sembra addirittura che reagisca a rispondere ai loro giochi ok sembra che ci sia ok che è questo cosa? il bambino è rapito forse non se sa c'è un mega sronzone qui ok allà ok oh no no survivors here what do we do just give her that baby puppet non capito come si fa a riparare il filo del burattino vabbè comunque ciao nel municipio apri 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 amuleto abbiamo un amuleto lo andiamo subito a equipaggiarlo si sale bene abbiamo unesimo boss brutto veramente brutto mamma mia non 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 no sta a fa tutto lui interessante aia aia ma questo è stato proprio facile eh vai bene aia 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 Dovevamo liberare la tipa Non so dove cavolo sta Non so dovevamo liberare la tipa Non so dovevamo liberare la tipa Non so dovevamo liberare la tipa Questo è l'ingresso Non sappiamo Non si sa Eh no l'edificio è questo Per cui Boh va bene va bene va bene Quindi Questa cosa mi è piaciuta tantissimo Comunque va bene Ok ci becchiamo fra Penso a mezz'olta Tre quarti d'ora Al tempo di editare il video E un saluto a tutti Da come sempre Da Goitalia Ruspa contattami su Facebook Se non ce l'hai ti mando il link Comunque ci sta anche Sul mio profilo qui su Twitch C'è il link Quindi contattami là Insomma ci becchiamo lì Ci messaggiamo lì Ci becchiamo Ragazzi Lì scorda anche Sì 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 Goitalia Se vuoi mi trovi lì Se no ti mando un PVT Qua sopra Tranquillo Ruspa Ti risolvo io il problema Un saluto a tutti ragazzi Ci becchiamo A brevissimo Con la terza parte Grazie a tutti